Danilo, un certo Gildo Claps dice che sua sorella è scomparsa e vuole parlare con te. Elisa Claps si è allontanata da casa volontariamente e francamente, ma si può anche capire. Berfogna! Una storia vera, ma incredibile. Suo figlio è stato l'ultimo a incontrare mia sorella, mia sorella ancora non è tornata a casa. Mi dispiace, non possiamo aiutare. 17 anni alla ricerca della verità. Finché non scoprirò cosa è successa a mia sorella, io non mi fermerò. Per Elisa, il caso Claps. Questa sera alle 21.30, Rai 1.